Musica Buona domenica, ben ritrovati per il nostro appuntamento con 7 giorni di cronaca per ripercorrere gli eventi più importanti della settimana. Sulla decisione della regione di non realizzare l'autostrada Termoli San Vittore, il senatore del nuovo centrodestra Molise Di Giacomo ha presentato una interrogazione urgente al premier Renzi e al ministro delle infrastrutture Lupi. L'iniziativa è stata presentata a Palazzo Moffa nel corso di una conferenza stampa dallo stesso Di Giacomo e dall'ex governatore del centrodestra Michele Iorio. Sentiamo Giovanni Minicozzi. La riprogrammazione dei fondi destinati all'autostrada del Molise è un atto illegittimo. Il centrodestra punta i piedi e attacca il governo regionale che ha scelto di cancellare l'autostrada per finanziare, con i 200 milioni di euro ad essa destinati, opere secondarie, tra le quali la metropolitana leggera, progettata per il primo lotto anni fa dall'architetto Paolo Frattura, ha affermato il governatore Michele Iorio, presentata in consiglio regionale una mozione per ripristinare i fondi all'asse autostradale. Io credo che questo atto deve essere riportato innanzitutto in consiglio e poi è un atto di volontà che è contro le disposizioni di una legge nazionale. Non è possibile spostare i finanziamenti dall'asse autostradale alla metropolitana leggera perché sono due opere che non sono in concorrenza, non solo, ma la metropolitana leggera non è attuale per oggi, secondo me, e non è prioritaria. Poi vorremmo sapere perché nella riprogrammazione ci sono riportate tante opere previste da noi quando eravamo al governo e in due anni non sono state attivate. Cioè si riprogramma perché i due anni sono stati persi e perdi due anni per questi finanziamenti e poi blocca la ricostruzione, e chiudi le aziende principali, questa regione, stamattina leggevo, è la regione all'ultimo posto per la disoccupazione. Il senatore Ulisse Di Giacomo ha presentato una interrogazione al presidente del Consiglio e al ministro dei Trasporti per far rispettare i provvedimenti legislativi a suo tempo approvati per l'autostrada e ha chiesto a Paolo Frattura di fare luce sul conflitto di interessi relativo alla progettazione della metropolitana leggera. Noi riteniamo che quest'opera che abbiamo contribuito nel 2011 a far finanziare dal governo Berlusconi attraverso il Cipe sia oltre che di interesse strategico nazionale per il collegamento tirreno-adriatico sia per questa regione un'opportunità di lavoro incredibile. Richiedere di rimodulare i fondi nazionali e togliere i fondi regionali da quest'opera per fare non si sa bene che cosa è un ulteriore colpo alle prospettive e al futuro di questa regione. Tra le opere riprogrammate c'è anche la metropolitana leggera? Sì, c'è la metropolitana leggera e un'altra serie di opere di cui questa regione non ha assolutamente bisogno. Io ho l'impressione che stante la scadenza di dicembre 2015 per le opere inserite all'interno di questo programma impossibili quindi naturalmente da avviare credo che sotto sotto ci sia il tentativo per pagare qualche progetto e qualche progettista di queste opere e finirla lì buttando all'aria e sprecando un'occasione più unica che rara per questa regione. A Campobasso fu la firma del protocollo per la sicurezza è stata una iniziativa del Ministero dell'Interno che coinvolge i comuni molisani al di sopra dei 5.000 abitanti e che ha come punto centrale la tutela della sicurezza e della legalità. Alla firma anche il Vice Ministro dell'Interno Filippo Bubbico. Sentiamo Giovanni Di Toda. Dare sicurezza ai cittadini attraverso una rete formata dai comuni. Il protocollo d'intesa è stato sottoscritto oggi a Campobasso tra le prefetture delle due province e il Ministero dell'Interno. Oltre ai due capoluoghi sono interessati al Piano del Viminale i centri che hanno più di 5.000 abitanti Termoli, Venafro, Boiano, Larino, Agnone, Montenero di Bisaccia, Guglionesi e Riccia. La firma, in calcia al documento, porta per il governo il nome di Filippo Bubbico, Vice Ministro dell'Interno. Noi dobbiamo costruire le condizioni perché tutte le istituzioni della Repubblica concorrano ciascuno per la propria parte a garantire migliore sicurezza ai nostri cittadini, ai nostri territori, perché soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia una delle componenti che frena lo sviluppo, che rende poco appetibili per investimenti anche esterni i nostri territori, è costituito dalla componente sicurezza. Per fortuna in questa regione non registriamo i problemi presenti nel resto del Mezzogiorno d'Italia e tuttavia è necessario agire perché non solo la sicurezza percepita dai cittadini risulti soddisfacente, ma è importante che vengano impedite anche le penetrazioni criminali che abbiamo visto devastano le intere aree del Mezzogiorno d'Italia. L'impegno finanziario della regione è di 2 milioni e mezzo di euro per consentire ai comuni di intrecciare le fonti con le forze dell'ordine a tutela della sicurezza dei cittadini. Il Consiglio di Stato ha accolto la sospensiva sull'appello della Codacons e del Comitato Civico riguardo l'ampiamento della discarica di Montagano. L'udienza è fissata per il 15 aprile. Tonino Danese. Sull'ampiamento della discarica di Montagano deliberata dall'Aggiunta regionale il Consiglio di Stato vuole vederci chiaro. ha accolta la sospensiva sull'appello promosso da Codacons con il suo presidente Massimo Romano e dal Comitato Civico tramite gli avvocati Pino Ruta, Rienzi e Giuliano. In sostanza i giudici di Palazzo Spada hanno deciso un maggiore approfondimento di quelle questioni anche e soprattutto ambientali su cui il TAR aveva ritenuto di non intervenire. Il tema qual è? Che questo impianto viene quadruplicato quanto a capienza. Si crea un impianto di trattamento e il dubbio che noi ponevamo in primo grado e che oggi sembra essere confermato da atti deliberativi è che questo impianto per la capienza che viene a sviluppare che quadruplica quella che era l'originaria capienza e capacità è destinato a raccogliere rifiuti da fuori regione. Si diceva se l'impianto viene portato da 12.000 tonnellate a 52.000 tonnellate quando tutta la regione molise sviluppa un fabbisogno che è stato individuato in 36.000 tonnellate c'è un sovrappiù di questo impianto che è destinato a raccogliere i rifiuti da fuori regione. Era una questione abbastanza certa dal punto di vista matematico. Invece la si negava tra l'altro a livello più ufficiale o istituzionale. Il Consiglio di Stato ha fissato l'udienza pubblica il 15 aprile. Oggi in Consiglio di Stato abbiamo prodotto una delibera di un comune della Campania che delibera di confluire rifiuti nella discarica di Montagano. Allora se il tema è che il Molise deve diventare ed essere trasformato in una terra destinata ad accogliere i rifiuti è il caso che i cittadini lo sappiano che la classe che ci governa lo dica ufficialmente e che soprattutto questo tipo di atti li porti nelle sedie opportune cioè in Consiglio regionale e che li accompagni anche da delle verifiche tecnico-ambientali che sono a garanzia della salute. Deve essere accompagnato da una VAS si chiama una verifica ambientale strategica che ne valuta tutte le implicazioni dal punto di vista della tutela della salute dei cittadini dell'ambiente e anche da una valutazione di impatto ambientale ed è su questi due profili che il Consiglio di Stato questa volta ha ritenuto in via cautelare ma in modo abbastanza chiaro perché la motivazione in questo senso è di vederci chiaro cioè vediamo come incide sull'ambiente a fronte di una produzione documentale nostra che prova che i rifiuti vengono da fuori regione. Soddisfazione è stata espressa da Michele Marone di Azione Civica Molise. Si rimette la palla a centro su una questione che interessa tutta la collettività molisana ma appunto sotto il profilo della salute pubblica e del diritto alla salute. E questo in questa maniera si andranno a rivedere tutte le procedure connesse all'installazione di questo impianto e questo proprio per andare a garantire tutte le norme di sicurezza e di tutela poste appunto a salvaguardare il diritto alla salute di tutti i cittadini molisani. Importanti novità per il futuro dello zuccherificio del Molise firmato a Termoli l'accordo preliminare con la società Area Food SPA per l'affitto di un anno dello stabilimento. L'imprenditore Diego Volpe Passini ha così confermato l'impegno per rilanciare una delle aziende più importanti della regione. Fabrizio Occhionero. Zuccherificio del Molise firmato ieri sera l'accordo preliminare con la società Area Food per l'affitto di un anno dello stabilimento. L'intesa è stata sottoscritta a Termoli nello studio del notaio Vincenzo Greco dal commissario liquidatore Lorenzo Di Nicola e dall'amministratore unico della SPA Massimiliano Milano a seguito del parere favorevole rilasciato dai commissari giudiziali e dal comitato dei creditori. Nell'atto sono stabilite delle condizioni in termini del pagamento dei debiti della SRL e garanzie per i livelli occupazionali. La società guidata da Diego Volpe Passini avrà anche il diritto di prelazione alla successiva asta con la possibilità di acquistare l'impianto. L'ipotesi di piano industriale prevede non solo la produzione di zucchero ma anche di derivati. Obiettivo dell'imprenditore fiulano è in sostanza quello di riconquistare fette di mercato e dimostrare che si può produrre utile e dare garanzie in termini di posti di lavoro. Ulteriori dettagli dell'accordo approvato dalla Regione si conosceranno nelle prossime ore. Ci è attesa anche per l'incontro di oggi pomeriggio tra Diego Volpe Passini e i beticoltori. Sullo sfondo una campagna beticola ancora da avviare e la cassa integrazione per i dipendenti dello zuccherificio. La situazione lavorativa nel Molise non è solo drammatica ma non vede prospettive di futuro e la classe politica fa proclami ma poi non agisce. Questo è il parere di CGL e Wiltux che in conferenza stampa hanno annunciato manifestazioni di protesta a partire dalla prossima seduta di Consiglio. Sentiamo. Centinaia di lavoratori in Molise attendono di conoscere il proprio destino sospesi sul baratro di mobilità, cassa integrazione, minaccia di licenziamenti, riconversioni e varie ed eventuali vertenze e tante vertenze aperte e lasciate a metà come la vita di chi attende la risposta. Dopo tanti impegni, riunioni, tavoli, incontri, conferenze e proclami i molisani assistono impotenti ed arrabbiati ad una regione molise che dorme. Un silenzio tombale, così l'hanno definito CGL e Wiltux che insieme hanno indetto una conferenza stampa via Mosca a Campobasso. E adesso alla lunga lista di molisani. In pena si aggiungono quelli delle banche, la Cassa di risparmio di Rimini e la Banca dell'Etruria. Ha fatto presente Luigi Sansone, segretario CGL e banche. Entrambe hanno deciso chiusure e trasferimenti del personale. Chiederemo con forza, anche attraverso presidi che faremo a partire dal prossimo Consiglio regionale, ma anche davanti alla Giunta, anche davanti agli assessorati, chiederemo con forza che la politica si occupi esclusivamente di lavoro. Senza lavoro non c'è futuro e non c'è sviluppo. A partire dalla chiusura di quelle vertenze che possono essere chiuse, ma anche a partire da una calendarizzazione un po' più precisa di quelle che sono le altre vertenze generali. La Regione ci deve spiegare perché nemmeno le vertenze che sembravano più facili sono arrivate a qualche soluzione. Ci devono spiegare dove è lì in toppo, hanno detto Guarracino e Spina. Sì, ma qui siamo ormai al paradosso. Ci sono vertenze come quella che riguarda le sattorie, il pianeta service, comunque la riscossione dei tributi o come quelle della biblioteca provinciale che sono vertenze che francamente non capiamo perché ancora non si riescono a chiudere. Manca la concertazione con l'assessorato al lavoro hanno denunciato i sindacati e intanto la rabbia dei cittadini cresce e non è escluso che tale disperazione accenda la miccia di una protesta pubblica senza precedenti. Assolutamente sì, ma aumenta per diverse ragioni. Aumenta perché davvero non ci sono più soldi per andare avanti. Aumenta anche perché la politica che mal ci gestisce quando racconta ai cittadini in conferenza stampa che ha risolto una parte dei problemi e poi invece quei cittadini si vedono arrivare a casa le lettere di licenziamento per loro è un problema è un problema serio e la tensione sociale aumenta e necessariamente aumenta e io mi rivolgo assolutamente alla politica in particolare all'assessore Petraroia che è anche vicepresidente della regione e facendo mio i suoi appelli continui al fatto che in Molise bisogna lavorare insieme al fatto che per risolvere questo grave problema dell'occupazione bisogna fare squadra io mi domando che cosa intende? C'è bisogno di serietà c'è bisogno di concretezza ormai delle chiacchiere ci siamo stufati Nuovo incontro a Campomarino del Comitato che si è costituito contro l'Imu agricola rabbia dei coltivatori alle stelle che puntano il dito contro associazioni di categoria e politica Manuela Iori questo non è il problema dell'Imu che ha fatto traboccare la goccia dal vaso il problema il problema è che noi siamo l'ultima categoria noi non siamo più rispettati devono i politici devono essere al nostro servizio noi li paghiamo ma devono sottostare a quello che noi chiediamo sono loro che devono telefonare a noi e chiedere che cosa vi serve cosa sta succedendo siamo noi che decidiamo il futuro di questa regione siamo la categoria più importante ma ci hanno distrutto ci hanno tolto la dignità l'Imu l'agricoltore non lo deve pagare a esprimere tutta la sua rabbia è Sergio Tanassi imprenditore agricolo di Termoli una rabbia che la dice lunga sulla disperazione che sta colpendo una categoria sempre più in ginocchio che un tempo scendeva in piazza con i trattori per protestare oggi invece la rassegnazione rischia di prendere il sopravvento se non si ritrova uno slancio di orgoglio è per questo che è nato il comitato basso molise contro l'Imu agricola ed è per questo che in tanti hanno partecipato alla riunione organizzata in comune a Campomarino noi come comitato basso molise abbiamo voluto organizzare questo proprio perché riteniamo in questo momento questa tassa una ingiustizia che si compie nei confronti degli agricoltori proprio perché non rispecchia tutta la totalità del mondo agricolo in quanto è una piccola parte che oggi partecipa alla pagare questa tassa ora intanto c'è un primo obiettivo uscire con un documento da portare all'attenzione dei nostri parlamentari a Roma i quali si sono già in questo momento spesi per portare all'attenzione a loro volta del sottosegretario Barretta e del ministro Martina una probabile esenzione ma quantomeno una non applicazione di questa legge nel 2015 diversi gli interventi in cui si è sottolineato come la situazione sia sfuggita di mano per una norma che il governo già aveva inserito oltre sette mesi fa a parziale copertura degli 80 euro in più in busta paga Pino Gallo in passato consigliere regionale ha puntato il dito contro l'iniquità dei criteri adottati nel decreto facendo notare come la terra sia uno strumento di produzione che non può essere tassato è come se si tassassero i macchinari di un'industria ha spiegato accusando anche le associazioni di categoria che sull'imo agricola sono rimaste in silenzio se va fatta una protesta è quella di strappare la tessera affermato tra gli applausi generali infine ha esortato la costituzione di un'unità attiva che coinvolga il maggior numero di territori possibili per non restare isolati e torniamo a parlare della crisi politica al comune di Isernia si aprono degli scenari positivi di Brasiello a fatica starebbe ricompattando la maggioranza con la garanzia che anche i dissidenti potranno essere coinvolti nell'azione di governo Enzo Di Gaetano Per risolvere la crisi Brasiello sembra disposto a tutto anche a percorrere strade mai battute dalla politica comunale isernina la soluzione trovata per la crisi sarebbe quella delle deleghe di gruppo o di comitiva infatti il sindaco di Isernia dopo aver restituito i rispettivi incarichi e uffici ad ognuno dei cinque assessori già in carica distribuirà le sue deleghe quelle che gestiva personalmente ai dissidenti che presumibilmente le dovranno gestire in unione e armonia tra loro e si tratta di settori chiave della macchina amministrativa comunale finanza bilancio personale e vigili urbani ma saranno capaci i dissidenti a gestirli collegialmente e soprattutto responsabilmente senza indennità alcuna Riassegna le deleghe a tutti gli assessori con le sue e a chi le dà E questa è la valutazione che sto facendo sono deleghe importanti parliamo di bilancio di personale di polizia municipale sono deleghe che hanno bisogno di un'attenzione molto molto particolare vediamo un pochettino gli assessori sono tutti a disposizione sono disponibili cercherò di assegnare secondo le competenze di ognuno di loro A qualcuno che non è assessore le assegnerà questa deleghe o non esiste? Assolutamente ci sarà il coinvolgimento dei consiglieri in maniera però diversa dal passato non come assegnazione diretta di deleghe ma come gruppi di lavoro che saranno messi intorno agli assessori stessi e lavoreranno con gli assessori per la definizione di queste deleghe che io anche dovrò assegnare Quindi in pratica una ridistribuzione dei pene e dei pesci in Brasiello tutti contenti alla fine? Beh no con un sistema totalmente diverso dal passato se il problema è stata la come dire la mancata o poca come dire condivisione di alcune tematiche importanti ecco si va verso la condivisione assoluta in modo da poter coinvolgere tutti i consiglieri ma veramente questa volta dico tutti i consiglieri E in futuro quel allargamento della giunta che lei promette da sempre dal 2013 l'ha promessa ma poi non l'ha mai fatto lo farà? Ma intanto il problema non mi sembra fosse un problema politico di allargamento di giunta è stato posto un problema di metodo e di condivisione mettiamo a posto il metodo e la condivisione e poi vedremo E veniamo alla cronaca per far entrare la droga in carcere la incollavano dietro alle cartoline di Papa Francesco è accaduto a disernia ma il trucco è stato scoperto il caso non è isolato a Ponte San Leonardo si sono infatti verificati anche altri tentativi e intanto si avviano a conclusione le indagini sul detenuto morto in seguito a un'aggressione subita proprio nell'istituto di pena Isernino sentiamo Sergio Di Vincenzo se ne inventano di tutti i colori pur di far entrare la droga in carcere a Isernia ci hanno provato spedendo una cartolina con sustampata l'immagine di Papa Francesco che tra l'altro proprio l'estate scorsa ha varcato le porte dell'istituto di pena di Ponte San Leonardo durante la sua storica visita in Molise le cartoline in realtà erano due una incollata sull'altra nel mezzo era stata sistemata una bustina contenente cocaina il mittente sotto sotto sperava che il pacco droga abbellito con la foto del santo padre passasse inosservato è però andata male l'agente di polizia penitenziaria addetto al controllo ha notato un leggero rigonfiamento e ha scoperto il trucco ma non il mittente perché l'indirizzo sul pacco era ovviamente falso non ha invece avuto scampo una donna che ha tentato di far arrivare la droga al marito nascondendola nei ricambi di biancheria intima che stava per consegnare al coniuge è stata scoperta e denunciata a piede libero alla procura di Sernia intanto restando a Ponte San Leonardo si avviano alla conclusione le indagini sulla morte di Fabio De Luca il procuratore capo albano e il sostituto Gaeta hanno infatti acquisito anche la documentazione con i risultati degli esami irripetibili nelle due celle sequestrate effettuati dalla scientifica di Napoli e dalla mobile di Campobasso ora manca solo la relazione di Vincenzo Vecchione il medico legale che ha effettuato l'autopsia bisognerà aspettare ancora qualche giorno per la morte del 45enne originario di Roma colpito alla testa con un oggetto avvolto in un panno sono indagati due detenuti napoletani presenti nella cella in cui si è verificata l'aggressione più una terza persona il cui ruolo è ancora da chiarire il reato ipotizzato è quello di morte derivante da altro delitto per la giornata del ricordo degli eccidi delle foibe il liceo scientifico Romita di Campobasso con il patrocinio del comune ha organizzato un incontro una lezione nel palazzo dell'ex Gil nell'ambito del percorso memoria e cittadinanza sentiamo Tonino Danese un'altra pagina nera vergognosa della storia dell'umanità quella degli eccidi compiuti dai partigiani ugoslavi di Tito ai danni delle popolazioni slave italiane durante e appena dopo la seconda guerra mondiale uomini donne e bambini uccisi e gettati nei grandi inghiotti toicarsici appunto le foibe così chiamate nella Venezia Giulia una vicenda venuta alla luce tardi per alcuni ancora sconosciuta il dipartimento di storia e filosofia del liceo scientifico Romita di Campobasso con il patrocinio del comune in occasione della giornata del ricordo ha organizzato una lezione per le classi quinte un incontro nell'auditorium del palazzo della Gil conoscere vuol dire non dimenticare ma soprattutto non ripetere gli orrori di un credo distorto è il messaggio specie oggi in cui le pagine della storia si riempiono ancora di gesti dettati da follia xenofobia fanatismo il rischio che si corre è quello di banalizzare il passato spettacolarizzarlo e naturalmente questa cosa può non avere nessuna ricaduta didattica sui nostri alunni per questo abbiamo deciso che ogni volta ogni giornata della memoria è per noi una lezione di storia che rivolgiamo ai ragazzi come da programma anche con il docente Unimol Giovanni Cerchia si è dunque parlato di foibe dell'esodo Giuliano da Almata e di aspetti oscuri di quel tragico e vergognoso eccidio avvenuto negli anni in cui la follia nazista portava allo sterminio pure di milioni di ebrei le foibe come la Shoah sono accomunate naturalmente dalla mancanza di rispetto totale non solo per i diritti umani ma proprio per la persona umana perché buttare nelle foibe una persona significa annientarla significa toglierle tutto anche la memoria perché non si capisce chi c'era praticamente nelle foibe si tirano fuori solo ossa per cui non si ricostruisce neanche l'identità della persona quindi è come se queste persone non fossero mai vissute io penso che il disprezzo della vita umana e della persona raggiunga i livelli massimi purtroppo come diceva lei le foibe e la Shoah non appartengono solo al passato e per questa puntata di sette giorni di cronaca terminiamo qui grazie per averci seguito appuntamento alla prossima settimana pura domenica grazie a tutti Grazie a tutti.